Il 23 settembre Romy Schneider avrebbe compiuto 80 anni. La giornalista ha rivelato che quando l'attore si è presentato era commosso ma non ha parlato della scienza. Lo stesso Delon aveva già pubblicato un testo 10 anni fa per i 70 di Roma. La Schneider muore a Parigi nella notte del 29 maggio 1982 o la post proprietà di 43 anni in seguito dell'abulto di Sonny Teruato, da allora Delon non perde occasione per ricordare il suo amore per lei.Nel 2008, sul palco di Sonson, una 2017, in un'intervista a Danny Tiffer in cui dice che è stato il grande amore della sua vita, il primo, il più forte, il più grande, ma anche il più forte. .